Buon anno, akimashite omedetou, happy new year, xin dien kuala Sehebok, mani fa deseo Questo è il video, un po' in ritardo Sì, tanto ritardo Scusate, ma abbiamo aspettato anche l'anno cinese Esatto Il nuovo anno 2021 Abbiamo fatto questo video Che abbiamo strutturato in due parti La prima Sì, prima ho fatto un video Di Capodanno in Giappone E anche il nuovo anno Ho passato questi giorni a casa mia Casa mia da sola Quindi ho provato a cucinare un tipico cibo Però vorrei che capiate Ho fatto solo per una persona Per me stessa Quindi ho fatto una cosa molto semplice e facile Quindi spero che capiate Questi cibi non sono tipici Non per il cerebrale della famiglia Ma solo per una Esatto Bene La seconda parte L'ho passata in Italia Sono tornata in Italia A festeggiare il Natale E quindi è come io e la mia famiglia Anche noi molto semplicemente Senza grandi pranzi di Natale Abbiamo fatto questa cena semplice Tra di noi Con alcune cose fatte in casa da mia mamma E anche questo è molto semplice Quindi non aspettatevi granché Bene Bene Quindi Allora iniziamo 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 E buona visione Buona visione Adesso Mioco farà vedere come si fanno Come si fa la soba Sì In Giappone si mangia Toshiku Shisoba Per il Capodanno Sto preparando Questi sono famosi I Naruto I Naruto Come manga Esatto Per questo che la gente lo conosce Questo katsu Salza di pesce Sì Si 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 mette nell'acqua Si Si Fa bollire Si mischia Fa bollire Funchi Shimeji Spinaci Scorenzo In Giappone Si Se è pronto Scorence Scorence Il tomate Si trova già fatto Si esatto Perché è una cosa macina Si si C'è scritto kotobuki Che significa c'è l'azione Ho bollet Si Infatti ho sbagliato Dovrebbe essere Bollire Soba Prima Non Non Spinaci Prima Però Si 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 Fa bollire Soba E poi si mettono le leodure Esatto Adesso sto cucinando la tuffa Ci sta Sembra una faccia Grazie Qua buona Però il giorno dopo Buon anno Quindi Okcino ha ozoni Ancora Kuzudō Passa dei pesci Mi piace proprio il pesce Giapponesi Si Ancora spinaci Pollo Pollo Fungi Shikake Pollo 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 E' vero Si 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 Mi piace Pollo Mi piace E' più buono Passo Ancora M trekki Kuzi Mochi Questa è una forma come squattura Quadratà Quadratà E questo E' una qua di regione Questa è la tonda per sud parte Quindi dipende dalla posizione e la forma cambia Si Mai Prima Normalmente si usa per pesce però anche puoi usare per mochi perché non c'è il forno in Giacone c'è solo quello esatto a bollire si dobbiamo girare da sono molto é ci sono tutto è ottc7 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 molti Qua ci manca una cosa Hashi Speciale per un guano E questo ha mancato Katsushis Quello che sembra che siano Quello che si muovono Buon appetito Buon Natale Ciao La mamma che prepara Ciao facciamo le gustette L'ho sformato I nidi di rondine Metti a fuoco Grazie I funghi Aspetta Bambu Adesso inizio un tour del caldo Di sala Che carini A mia mamma piace tanto decorare per Natale Ha un sacco di cose Quelle glielo ho portate io Da Giappone Guarda Gatto Gatto 2 Ho visto l'albero Sì l'albero di Natale Io che passo da un'altra parte Molto carino Natale 2020 Finalmente insieme Che bello Natale Covid Una cosa bella del 2020 Che siamo insieme No? Per colpo del Covid siamo insieme Grazie a tutti Ok Questa è la tavola che ha preparato mia zia Quando siamo andati a mangiare da lei Sì lei è molto brava Brava Questa è una tipica cena Sì Lei ha fatto tutto a base di pesce Vedi anche queste cose Insalata di pesce Sì Io e mia sorella A Cervia Ciao Sì perché mio nome è di Cervia Quindi sì Sì siamo di Cervia E anche qui Questa è la piazza di Cervia Wow Ed è molto Sì questa è mia sorella Ciao Lisa Ciao Ciao Molto contenta di essere Ma guarda questa è davvero che bella Davvero bella Questa sì Meglio di Ravenna Questa è molto più bella Bello Sì Ciao Ciao Grazie per aver visto il video Bene Scusate per la qualità di video Sì un po' Il fatto che era molto casareccio Molto tenuta da casa Ma è molto Abbiamo Ci siamo riusciti a vedere Carino papà e mamma Esatto la mia famiglia un po' pazza Ma felice E che vi va bene Bene E quindi Buon nuovo anno E buon 2021 E iscrivetevi Iscrivetevi al canale E condividete con tutti Al mondo Esatto Tutti il mondo Tutti il mondo Ciao ciao Grazie a tutti Buon anno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti